Sono Luca Piscaglia, sono un consulente del lavoro, sono iscritto all'ordine professionale dal 1986. Faccio questa professione perciò da tanti anni, da 31 anni, faccio questa professione, sono 32 e sono contento di farla, professione secondo me molto bella, una professione che tra le professioni giuridico-amministrative secondo me è la più bella, è la più bella perché a differenza dei miei cugini commercialisti, io ho a che fare con le persone, non sono solo numero, ho a che fare con la vita della gente, ho a che fare con i momenti della vita, dai momenti belli, ai momenti brutti, dai momenti di gioia, con le nascite dei figli, ai momenti di difficoltà quando si perde un lavoro e quello che devo fare è cercare di riuscire a tenere sempre davanti a me non un interesse di una parte o di un'altra, devo cercare di tenere davanti a me la barra dritta verso quello che è giusto fare in quel momento, verso quello che la normativa ti pone, verso la normativa ti dà, è un lavoro impegnativo, è un lavoro perché io non ho un datore di lavoro, io ne ho 300 di datore di lavoro, perché devo seguire le loro esigenze, devo seguire le loro necessità, esigenze e necessità che non hanno orari, non hanno periodi, non hanno spesso volentieri neanche dei limiti, perciò ti trovi spesso volentieri che entrano molto nella tua vita, una mia vita privata che è fatta di hobby, di passione, oltre ad avere due figli splendidi che oggi in questo momento stanno studiando, stanno finendo l'università, ho una grande passione per la pesca, questo mio hobby che mi accompagna da quando avevo 9 anni, perciò ho praticamente quasi 50 anni che vado in giro per l'Italia per il mondo a prendere e a rilasciare dei pesci, ok? Ho fatto tante, faccio anche la pesca agonistica, faccio gare ed è una malattia, veramente una grandissima malattia di cui anche questo mi piace tantissimo ed è il mio sfogo, è il mio modo per riuscire a sbollire un po' tutte le tensioni che ho durante il giorno, durante la settimana, durante gli anni. Questa attività l'ho ereditata da mio padre, mio padre faceva il mio stesso lavoro, aveva cominciato nel 1954, sono 64 anni che lo studio fiscale esiste, l'ho ereditata nell'82, dalla sera alla mattina, quando mio padre è stato colpito da un ictus, dalla sera alla mattina non l'avevo più con me a lavorare, fortunatamente non è morto in quel periodo, è stato solamente molto ferito nelle sue attività normali, ha vissuto per un'altra ventina d'anni, però da quella sera non l'avevo più, ero molto giovane, in quel momento avevo 22 anni e avevo sette dipendenti. Dalla sera alla mattina mi sono dovuto inventare queste attività, sono stato molto fortunato perché ho cominciato molto presto ad affrontare questo tipo di problemi, ho cominciato molto presto ad affrontare le difficoltà di una professione, che sono tantissime, ti trovi spesso volentieri solo a combattere contro il mondo, contro i problemi dei tuoi clienti, contro un mondo difficile, perché il nostro è un mondo difficile, fatto di tante burocrazioni, tante situazioni e quant'altro, però ho trovato anche tanti amici nella mia attività, sia tra i colleghi, e questo ne vado fiero perché ho veramente avuto tanti tanti amici tra i miei colleghi di lavoro, e anche dall'altra parte, oltre ai clienti, che ho clienti che sono da me da sempre, e ormai c'è un rapporto più di amicizia e effettività piuttosto che da cliente o consulente del lavoro. Immediatamente mi sono appassionato anche all'aspetto sindacale della mia categoria, da allora praticamente faccio parte del Consiglio Nazionale dell'Associazione dei Consulenti del Lavoro, dagli anni 90, dall'anno 2000 sono il Presidente regionale, e questa attività sindacale mi è sempre appassionato tantissimo perché era un modo per vedere il futuro della nostra professione, un modo per vedere il futuro di noi giovani allora e oggi è un modo per vedere il futuro dei giovani un domani. Mi ha dato tantissimo questa attività perché mi ha portato a conoscere in lungo e in largo tante persone nel mondo del lavoro, da colleghi eccezionali, da avvocati fantastici, che sono stati anche i miei insegnanti, mi hanno insegnato tante cose nel mondo del lavoro, esperienze simpaticissime, molto gratificanti, come quella volta che andai in Polonia con il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro a parlare di sicurezza sul lavoro, è stata un'esperienza molto bella, perciò ti sei portato anche fuori, all'estero, e di questo voglio raccontare un piccolo aneddoto che è simpaticissimo. In quel periodo lì, negli anni 94, 96, 98, mi ero dedicato all'attività di convennistica, facevo tanti convegni in giro per l'Italia ed è per questo che il Consiglio Nazionale dell'Ordine mi chiese di andare a fare questa attività anche all'estero. E parlavo di sicurezza sul lavoro, un argomento pesante, pesantissimo, parlare di sicurezza sul lavoro è veramente molto noioso e molto difficile. E vedi dopo un po' che le persone perdono l'attenzione in quello che dici. Ed ero abituato a raccontare piccole aneddite, piccole battute che magari facevano sorridere le persone e riportavano un po' l'attenzione su quello che era. E così è stato anche a Varsavia. Avevano davanti a me 300 polacchi, anni 90, perciò non era la Polonia da adesso, una Polonia ancora abbastanza chiusa, che veniva da un periodo abbastanza difficile, perciò persone di per sé abbastanza compite, non voglio dire triste, ma molto molto seriose, che dopo un po' anche loro, tra l'altro, seguivano a fatica questi discorsi di una innovazione che da loro ancora non c'era. E allora in un momento di difficoltà feci una battuta. Sudai freddo perché a quella battuta non rise nessuno. In quel momento ero veramente terrorizzato. Davanti a 300 persone che gli fai una battuta e non la capiscono. Ho detto, ops, i polacchi non hanno capito la mia battuta. L'umorismo italiano è diverso da quello polacco. E così, preso ancora da una grossa difficoltà, comincio l'argomento dopo. E mentre comincio l'argomento dopo, tutti sono scoppiati a ridere. Mi ero dimenticato che c'erano i traduttori simultanei e ci mettevano un minuto o due a fare questa cosa qui. È stato simpaticissimo. Mi sono assolutamente rilassato, ho finito la mia esperienza. Questo per dire che l'attività all'interno dell'associazione dei consulenti del lavoro mi ha fatto conoscere veramente tanta gente, ma ha riempito veramente professionalmente tanto. E se oggi sono qui è perché veramente ho avuto l'opportunità di crescere tanto, ascoltando, incontrando, vedendo, scambiando idee, confrontandosi su tante cose. Sono stati veramente momenti molto, molto, molto belli. Oggi, a distanza ormai di 30 e più anni, mi ritrovo che siamo nella sede nuova dell'ufficio. Da 7 dipendenti siamo diventati 30, da qualche cliente ormai ne abbiamo veramente tantissimi e seguiamo le situazioni più complesse e più intricate. Sempre però in questo mestiere, in questa professione che secondo me è veramente molto, ma molto bella.